In occasione del posticipo di Serie B tra Cittadella e Perugia erano presenti al tombolato osservatori, tra le altre, di Inter e Juventus. Nel mirino, scrive Alfredo Pedulla, il rampante centrale difensivo Granata, classe 98, Marco Varnier. I nerazzurri avrebbero già allacciato i primi contatti con il Cittadella, la concorrenza però si infittisce.